Buonasera buonasera, sono al bisolo superiore sotto il ponte di Ryobashi voglio fare uno scatto particolare, vi faccio un attimino vedere il backstage e poi vediamo come viene lo scatto Ok, qui c'è la prima GoPro, seconda GoPro e qui macchina autografica sul cavalletto macchina autografica, attore, GoPro, altra GoPro e vediamo cosa viene Secondo backstage, pronti a partire Dai che ne scatto un'altra Quello che stiamo bruciando è lana di acciaio per fare un effetto molto particolare che vedrete più avanti Va allargata tutta in questa maniera in modo che bruci molto Bene, adesso vedrete il risultato finale Mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un commento e continuate a seguirmi su YouTube Ciao ciao, ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti